a che giornatina era due coglioni in gorizia piovi piovi c'ha pitta una birretta dei almeno sembri a che moa ascolta curano tis non anche per ti stava qua grazie di moro alla tua alla tua vecchio di ok te caschi sempre ciò oppure di fatti le domande ma se a di me purde che sia che robis di la mona e tu madre ma è mona di tu mare sì sì che robe lì ti faccio un esempio presente coteva a piazza ponte rosso e il mato ti dici se 20 euro per una maietta 20 euro ma vai mona di tu mare oppure te sono il marino te bevi un biciare con gli amici e un mato senza volerti da un colpo e te ribalta il biciare e ti ti dici ma vai mona di tu mare oppure l'unica cazzo di mattina che te rivitare di lavoro capo ufficio ti dici te licenzi e cosa ti vuol dire ma vai mona di tu mare biele che chi biele davvero Dio Lassar e tante volte non vuol dire proprio un cazzo solo vai mona di tu mare e come la mora che viene e che va e dici che il mondo che viene e che va e come la mora che viene e che va e dici che il mondo che viene e che va Grazie a tutti.